Però l'infermiere di famiglia, ad esempio, è una delle proposte che abbiamo fatto anche noi qui in Regione Emilia-Romagna. La definizione di infermiere di famiglia è stata data per la prima volta dall'OMS nel 2000 e secondo noi può essere un facilitatore di salute molto importante anche per l'organizzazione sanitaria della nostra Regione perché può aiutare ovviamente i medici di base, i medici specialisti nella gestione della salute di tutto il nucleo familiare a partire ovviamente dalle persone che ne hanno più bisogno come persone con disabilità e anziani, ad esempio, e poi ovviamente stendersi alla famiglia e alla comunità. Integrata ovviamente questa gestione con appunto i medici, i medici di famiglia. Può essere uno strumento utile per poter aiutare le persone in caso di cronicità, può essere un aiuto nel momento in cui una persona ovviamente ha bisogno ad esempio di sviluppare l'educazione per autocurarsi perché sappiamo che molto spesso, specialmente i pazienti cronici, hanno da seguire una terapia quotidiana e che però va tenuta ovviamente sotto controllo. Può essere un aiuto nel prevenire eventuali cronicità perché un infermiere di famiglia vicino ai bisogni della comunità può aiutare nel rilevare quegli elementi di fragilità che poi possono comportare un eventuale pericolo per la salute del componente familiare e della persona. Insomma, è una figura molto importante che andrebbe sviluppata, andrebbe inserita in maniera attiva nell'organizzazione sanitaria della nostra regione. Noi a tal proposito abbiamo presentato una risoluzione e anche un'interrogazione all'assessore Venturi il quale ci ha risposto insomma un po' a modo suo dicendo che comunque già all'interno delle case della salute esiste una sorta di infermiere di comunità perché comunque la gestione organizzativa della casa della salute è demandata appunto alla figura dell'infermiere che quindi si può ricondurre alle stesse mansioni. Secondo noi non è così innanzitutto perché nelle case della salute della nostra regione ci sono molte pecche e molte cose da aggiustare e noi questo negli anni l'abbiamo sempre rilevato e fatto notare all'assessore Venturi e poi perché quello che abbiamo noi in mente è una figura diversa, molto più vicina alle famiglie, una persona, un professionista che comunque va anche a domicilio a seconda delle necessità delle famiglie e non semplicemente un coordinatore di un servizio che ad oggi purtroppo nella nostra regione è ancora fumoso perché non tutte le case della salute sono gestite alla stessa maniera, perché il cittadino ancora non sa bene quali servizi trovare dentro, perché i medici di famiglia che sono stati spesso costretti ad operare nelle case della salute o comunque invogliati in qualche maniera operare da dentro poi rischiano di perdere il rapporto di fiducia che hanno con i propri pazienti perché viene tolta ogni personalità al servizio che viene dato alle case della salute, il rapporto diretto medico-paziente che secondo noi è importantissimo. Quindi quello che abbiamo in mente noi è un qualcosa di ben diverso, è un qualcosa che vuole essere a servizio delle famiglie e delle comunità da noi in regione, non una figura asettica di coordinamento. Se poi si continuerà sulla strada delle case della salute vanno ovviamente anche quelle tutte riorganizzate per veramente alleggerire ad esempio quelli che sono i nostri pronto soccorso dei casi più lievi e creare una sanità di territorio molto più aderente ai bisogni dei cittadini, cosa che oggi purtroppo non avviene. È stato creato tutto un depotenziamento, una riorganizzazione degli ospedali senza tener conto delle necessità dei singoli territori. Questo è molto in breve quello che ci tenevo a dirvi sulla figura dell'infermiere di famiglia.